Siamo nell'aula consigliare del comune di Torrenova. Questa mattina il sindaco Salvatore Castrovinci ha indetto una conferenza stampa durante la quale ha rilasciato dichiarazioni shock che riguardano il servizio di raccolta a rifiuti. Il sindaco ha comunicato che il costo di smaltimento e di raccolta dell'immondizia incide in maniera pesante sui bilanci comunali e che il comune di Torrenova ma anche altri comuni del comprensorio rischiano il dissesto proprio per questo motivo. È impensabile anticipare il 50% del servizio di rifiuti così tutti i comuni andranno in dissesto. Ancora siamo in tempo per fermarci. Come ho detto in conferenza, già giovedì ho convocato la ditta che gestisce il servizio. Ho intenzione di fare un cambiamento radicale sul servizio rifiuti a partire dalla raccolta puntuale che è appunto priorista del contratto. La inizieremo da subito con le attività commerciali e industriali, con la pesatura dei rifiuti. Ognuno deve pagare per quello che conferisce così come eravamo rimasti. Non si può continuare così, non possiamo avere ogni due giorni dipendenti sotto che protestano perché giustamente i comuni non incassano, la ditta non incassa, quindi è il cane che si morde la coda. Anche se non è previsto in nessun contratto che sono i comuni a dover pagare i dipendenti, ma è la ditta che deve pagare i dipendenti. Anche perché se i sindaci domani mattina decidessero di pagare quando incassano, quando incasserebbero appunto dai cittadini, non so come andrà a finire. Quindi è bene secondo me di avere maggior equilibrio un po' tutti e cercare di cominciare a ragionare su un argomento così serio come i rifiuti. Torrenova uscirà dall'Aro? No, Torrenova non uscirà dall'Aro se ci sono le condizioni per andare avanti. La ditta che gestisce il servizio ha avuto sempre grande capacità di ascolto e sono convinto che nel tavolo tecnico di giovedì proporrò le mie modifiche. Ci siederemo in maniera molto seria e pagata come è successo sempre e troveremo delle soluzioni. Grazie. Grazie. Grazie.